è appena finito il derby di Milano e l'Inter a sorpresa ha vinto per 3 a 2 bisogna dire che l'ha vinto Luciano Spalletti con le sue mosse tattiche Luciano Spalletti tanto criticato per la scarsa gestione dello spogliatoio però tatticamente Spalletti resta a mio avviso un buon allenatore e devo dire superiore a Gattuso l'ha vinta lui la partita con l'allenatore del Milan per le mosse tattiche sorprendendo Gattuso che ha fatto fatico a trovare le contromisure e il Milan non ha mai giocato non ha mai dato l'impressione di poter vincere questa partita è andato subito sotto nel secondo tempo un po Gattuso ha rischiato qualcosa e il Milan ha messo sotto l'Inter però poi c'è stato quel rigore che ha cambiato ancora una volta la partita per cui Spalletti criticatissimo venuto fuori forse dal momento più difficile della sua gestione inter abbiamo detto che il suo posto era a rischio in caso di sconfitta al derby e invece con questa vittoria la sua situazione sicuramente migliora l'Inter torna al terzo posto il Milan scivola al quarto che dire il Milan l'avevamo detto era stato fortunato nelle partite precedenti guarda l'Atalanta e questa volta la fortuna non ha aiutato i rossonieri andano e ci ha fatto le solite buone parate Piontek invisibile annullato questa volta come era successo un po in Coppa Italia contro contro la Lazio non è mai praticamente riuscito a tirare in porta e quando Piontek non gira questo Milan fa fatica a segnare e da segnalare anche la difesa che è andata in difficoltà contro l'Inter insomma mancava Mauro Riccardi l'Inter non ha mai segnato senza Mauro Riccardi al derby e invece oggi ne ha fatti tre insomma Romagnoli ha fatto fatica e in generale tutta la difesa del Milan oggi non ha girato forse il fatto che mancasse un vero punto di riferimento come centravanti ha tolto riferimenti ai difensori del Milan e questo ha creato un po di confusione alla difesa del Milan che va detto che fino a questa partita era stata fantastica forse la migliore degli ultimi mesi in Serie A derby dove alla fine ha vinto quello che ha voluto più fortemente i tre punti ovvero l'Inter che ha giocato con grinta con determinazione mentre il Milan sembrava quasi convinto di poter vincere solo per il fatto che nelle ultime partite avesse giocato meglio che nelle ultime partite avesse comunque trovato sempre un modo di vincere anche quando non ha giocato bene questa volta è andato così perché ha trovato contro un Inter che forse qualitativamente è meglio di questo Milan e soprattutto ha giocato cercando di vincere ha combattuto su ogni pallone nel Milan a me non mi è piaciuto Suso ci si aspetta sempre di più da lui e invece oggi male male anche Cialanoglu non solo per il calcio d'angolo finale insomma ultimo minuto di gioco in calcio d'angolo va su a saltare anche Donnarumma e tu lo mandi direttamente in fallo laterale non solo per quello non mi è piaciuto è vero che Gattuso lo ha arretrato a mediano e quindi da là poteva fare meno male però in generale non mi è piaciuto come ovviamente come già detto non mi è piaciuto Piontek è praticamente invisibile oggi grande rivincita per De Vrij che ha condannato l'Inter contro l'Aintracht e qui ha trovato il gol che è vero non ha deciso il derby però ha portato l'Inter avanti 2 a 0 per cui l'Inter ritrova morale la corsa Champions League si infiamma perché l'Inter torna terzo il Milan scivola quarto ma la corsa è ancora da decidere visto che la Lazio ha vinto e la Roma non è ancora così lontana